Lo zio Italo era morto sei anni fa per cause naturali e la mamma Nerina aveva subito la stessa sorte a dicembre. Ma Federico Bernardinello ha deciso di non segnalare i due decessi a nessuno, nemmeno ai parenti più stretti, per non perdere le pensioni dei due anziani. È accaduto a Sant'Urbano, ultimo lembo a sud della provincia di Padova, in un casolare a due passi dall'Adige. Qui Bernardinello, 55 anni e una vita molto riservata, abitava da sempre con la mamma e lo zio. Le pensioni dei due gli erano indispensabili per campare, dato che l'uomo risulta inoccupato da molto tempo. Così, quando nel 2013 lo zio è mancato all'età di 84 anni, l'uomo ha pensato di nasconderne il corpo in legnaia, senza dire niente a nessuno. L'espediente è stato ripetuto questo inverno con il cadavere della madre. Ma un banale intoppo burocratico, dovuto alla richiesta di un certificato di esistenza in vita da parte della banca del paese, ha messo in moto comune i carabinieri, facendo crollare il castello di bugie costruito da Bernardinello. Ecco il resoconto ufficiale dell'arma dei fatti avvenuti nei giorni scorsi. E quindi i carabinieri sono presentati all'abitazione. Inizialmente il Bernardinello ha finto di non essere in casa, successivamente a ripetute richieste ha aperto la porta e una volta che ha visto i carabinieri ha subito ammesso di aver nascosti il corpo della mamma e dello zio nella legnaia e di aver tenuto nascosto questo evento per continuare a percepire la pensione. Resta da capire come sia evoluta la situazione nel corso degli anni, ma soprattutto come siano morti i due anziani. Le indagini sono ancora in corso, adesso comunque ci sono oltre a tutti gli esami autoptici che ha disposto già alla procura e che verranno effettuate dal medico legale. Ci sono tutti anche quegli accertamenti di contorno atti appunto a stabilire esattamente le modalità di questa vicenda. Una vicenda che lascia il cuore pesante per come è maturata in un contesto di chiusura nei confronti del tessuto sociale del paese da parte di Bernardinello. Il contesto familiare posso dire solamente che sicuramente soffriva un pochettino, viveva un po' in margine della comunità e comunque mi permetto di evidenziare la presenza diffusa dell'arma sul territorio che ha consentito anche in questo caso in poco tempo di portare a un risultato concreto. Bernardinello è ora ricoverato in psichiatria. Per lui, almeno per il momento, solo una denuncia per occultamento di cadavere e truffa.